L'agricoltura è un asse portante dell'economia della Regione Puglia e permette davvero lo sviluppo economico del territorio. Come incentivarla, come promuoverla adeguatamente? Ne parliamo con Giampaolo Vietri che è candidato al Consiglio regionale pugliese con il candidato presidente Raffaele Fitto. Il tema dell'agricoltura assume un ruolo primario rispetto all'economia del nostro territorio. Il nostro territorio è ricco di imprese agricole che danno vita a produzioni d'eccellenza. Nonostante le difficoltà strutturali di questo settore, noi sappiamo che ci sono tanti giovani che si avvicinano all'agricoltura e che contribuiscono a innovare e a far crescere le nostre imprese. Però è un comparto fortemente in difficoltà e un comparto soggetto poi agli eventi atmosferici che purtroppo molto spesso distruggono anche interi raccolti. La Regione deve incentivare l'agricoltura, deve essere pronta a cogliere tutte le opportunità per finanziare le nostre aziende e le nostre produzioni. In questi anni la Regione Puglia ha penalizzato molto il comparto agricolo. Infatti di recente non sono stati neanche spesi i finanziamenti europei per lo sviluppo rurale. Oltretutto, oltre a non intercettare questi finanziamenti, la Regione non ha neanche individuato nuove forme di finanziamento per la ricerca e la tutela del mondo rurale. L'agricoltura è un settore fondamentale che va di pari passo anche ad altre attività che compongono la filiera agroalimentare. Infatti quando parliamo agricoltura dobbiamo anche parlare di agriturismi, di masserie didattiche e di tanto altro ancora. Di pari passo anche all'agricoltura c'è il comparto della pesca e della miticoltura che anche sul nostro territorio impiegano moltissime persone. Anche questi comparti sono lasciati un po' a se stessi ma soprattutto sono penalizzati da norme che rendono quasi impraticabili queste attività. I nostri prodotti agricoli, il nostro pescato, i nostri prodotti ittici vanno sostenuti e valorizzati. Io in Regione cercherò di essere anche accanto degli operatori di questo settore.